Poi il doppiaggio fu un'altra cosa difficilissima per lei, il doppiaggio è più difficile perché sei fuori dall'atmosfera e insomma con 34 punture di doppiaggio... Torniamo invece un attimo ai destini, qui ti trovi davanti un cast che arriva da tutto il mondo, c'è un'attrice americana molto importante, c'è un attore cubano, Thomas Millen, che poi è diventato altrettanto importante che è una bellezza sconvolgente, veramente bellissima, c'è Claudia Cardinale che agli inizi, che arriva dalla Tunisia che parla francese, ha una voce molto rock che tu sei costretto naturalmente a doppiarla, c'è Anselmo Gerard Blaine che arriva dalla Francia e poi tanti altri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.